Salve buongiorno dottore Buongiorno signora la stavo aspettando Bene sì allora lei ha un problema Mi dica tutto Dunque da un po' di tempo Sento una cosa molto strana Oh veramente che cos'è questa cosa molto strana Dottore Sì Quando mi eccito Quando? Quando mi eccito Quando si eccita Mi sono Si rizza Sì Verso l'alto Pazze In effetti sono un po' così interdetto perché è la prima volta che mi capita di sentire una cosa del genere Sì ok Quindi mi puoi ripetere cioè quando lei Mi eccita Sì Mio seno Si rizza Verso l'alto E quindi Allora dobbiamo fare una cosa si metta in questa posizione Sì così E vogliamo scoprire un attimino Vado giù Eh ma lei vuole vedere E certo lo devo vedere signora Guarda giù così avanti Metta un po' più giù così Sì ma non è niente che ogni tanto mi giro la testa Sì Beh in effetti devo dire sinceramente che questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere e ho visto il seno rizzoso Sì 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 vediamo un po' cosa fare signora Mi dica dottore ma è una malattia grave? No una malattia grave sarebbe troppo cioè non le saprei rispondere comunque diciamo che è una malattia molto contagiosa Sì 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 e comunque dobbiamo approfondire adesso dobbiamo andare in un altro studio così la stare sul lettino e vediamo di Vediamo di giustare questa cosa del rizzamento del seno Vediamo di giustare questa cosa del rizzamento del seno